ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video se fa di mondo in cui sul mio canale sono benvenuti in compagnia di tonne ma poi c'è pure dopo un anno capito no non è che dici sono no vabbè e si è riportito il video no si si no 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 che schifo ben no no ma tu dimmi io da 0 a 10 quanti sono bravo a cantare ho incontrato la mia futura suocera ma non parabola ai wifi fai madonna ma riesce a sistemare quel microfono oggi si ma è cazzo combina con quel microfono no c'è tu eh vabbè e tra milioni e tra milioni di spermatozoi maratoni ti verso l'ovulo un solo posto nell'ovaia benvenuta benvenuta c'è 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 ma che bug tana la maestra e voi non dite che io non devo... perchè ho preso i miei 30 livelli di esperienza veramente WE ARE THE CHEMPIONS ALWAYS MEET di picchi si però e che cazzo sistem sto cazzo di microfono eh che cazzo NON mettere la bocca sul microfono no ma la metto direttamente dentro cioè ho sotto... gli ho tolto le cuffie oh cazzo in culo ecco crashato no perchè secondo me hai cambiato qualche impostazione top setting hey connect them from the channel connected ma che cazzo sta a combinare scusi una domanda eh eh amore eh crashato di connessione crashato di connessione crashato di connessione ma che pirla vabbè in ogni caso conduciamo questo episodio da assurdo finchè non rientra eh allora andiamo nel nether come la scorsa volta perchè dobbiamo trovare una fortezza ora io mi ricordavo che c'era qualche sito per trovare la fortezza eh però siccome io non sono citerlamer come remove la voglio trovare a mano oh stavo andando alla mamma matton wii ecco mi sono fatto male lo stesso tanto vale che passavo da la no scusi eh ma qualche non entra più no non sono arrivato si è crashato completamente di connessione ecco perchè crashavi ma tutto completamente ecco perchè crashavi da da server pure infatti vabbè mi sono rimasti mi sono rimasti dieci livelli un cazzo di gas ah porca puttano e io che non riesco a rispedire di queste palle le palle mi riesce a rispedire le palle non ci credito ah ecco lo sai evito di rimanere mai come un coglione ecco ed è spedito la palla lo so che mi piacciono le palle ma percorso mi chiamiamo dichiarazioni le dichiarazioni peggio cose no a me peggio no ah io so io se un percorso di fede cioè sono spiritualmente sono spiritualmente sono spiritualmente legata a dio se un percorso di fede che cazzo di ridi che cazzo di ridi il film pietro il film pietro c'è che mi hai fatto che cazzo vuoi io sei un percorso di fede mo che cazzo vuoi che cazzo vuoi coglioni di merda c'ho mezzo cuore la 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 c'ho mezzo cuore la 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 riuscirò a trovare una fortetta ハ chiuscì no chiuscì chiuscì no chiuscì che oh e è vero sto mai però ci sto per morire, è molto male anche sai io seguo un percorso di fede sono un collinello io seguo un percorso di fede assolutamente cattolico cristiano lo capito non dichiaro l'artico si tolta cioè io sono proprio cattolico infatti avete presente il cattolicesimo no? sono io no capiamo cioè sono l'istitutore, mi chiamavano il cattolico per eccellenza proprio la storia addosso la storia addosso la storia addosso no come no no è molto presto singhiozzo stone o cobblestone stone no dove sarà attento questo piccone spaccato troppo cioè che spaccato troppo allora allora in ogni chiso una cazza di fortezzi questa letter c'è sta o non sta scherzo eh se è una mola potrò vuoi già abbiamo beccato un mondo di merd troviamo pure un letter di merd non lo so se è il mondo di merd non lo so non lo so cioè france devi dire di merd scusi merd ok merd merd ok 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 allora dai ora se me cioè io mi sono confessato detto che appartengo al cristianesimo confucianesimo ora anche remove si confesserà vai confessati ho sbagliato confessati e percorso ma era la scopla sarebbe aspetta un secondo sono impegnato ecco il ecco ragazzo ragazzo coglione fermo ti non cuocino fermo confidenza so di religione ci dirai anche tu non di qualcos'altro ci dirai anche tu eh ci dirai oh porca puttana ci dirai anche tu il tuo percorso cazzo oh non ho un percorso qua non rompe i coglioni ce lo dice basta cazzo beh uscia mo non funzionava eccedere non funzionare non cantare di cozzo protestante protestante proteste proteste dal greco protest ma che significa stante quindi benestante nel stante ah quindi valeria una valeria sì l'etimologia della parola mi suggerisce questo scusa scusa dai dici 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 dai no ve lo dico io ve lo dico io ve lo dico io è un po' imbottigliato diciamo un po' imbottigliato un po' imbottigliato imbottigliato dove stiamo firma c'è un po' capito un po' asce che vara un po' asce che vara oddio un po' ricchione eh eh ah e lo dicevi prima no ah e lo dicevi prima prima ci ha pensato a dire no si poi ha detto si eh ragazzi sono malattie si sono malattie non dobbiamo discriminarlo solo per queste malattie anche per queste malattie ah scusi non funzionavano paramo morto sei sei che c***o aveva il kipinventori ma sto festeggiando aveva il kipinventori aveva il kipinventori aveva il kipinventori vaffami vaffami e zappai eh cantà tu 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 allora ma spieghi guarda l'hai mai visto questo blocco sbam che carino putti 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 e putti 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 che cazzo sei blocco, va fa' c***o va fa' c***o va fa' c***o va fa' c***o non funzionavano paravola e wifi la bira cala senza ghiaccio però devo fare ma se aspetta se io metto due picconi no uno incantato con una cosa e una con l'altra però uno è di ferro e uno è di diamante, si mette in no no ho già capito ho già capito ho risposto no 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 dici tu dici tu dici tu prova guarda io appoglio eh io appoglio mi dispiace perchè cosa ti è uscito? a quello di piccone si a quello di ferro niente non l'ho ancora l'ho ancora fatta ah allora efficiency eh efficiency tu mica lo devo fare mi serve mi serve altra cosa qua ci serve altra cosa eh altra cosa ma state zitto eh no eh no eh no che palle vabbè vado a fare expo nel netter vai a fare l'expo si l'expo si si ah vi dico che sarò all'expo i primi di maggio circa più o meno quando aprirò no qualche giorno dopo che aprirò eh circa il 12 1 c 12 e più o meno qui giorni là vi farò sapere e come ci sarà anche le move spiro le move no no eh il dispiace cioè dai di venire alle volevo andare perchè non vieni perchè non vieni dai dirlo sui miei genitori e poi ne riparliamo perchè boh non vuole importare hanno paura di un attacco terroristico dell'isis eh si lol io sentito no in ehm da alcuni amici che stavano programmando una gita per ehm stavano programmando una gita no per ehm una classe questa classe ehm praticamente avevano programmato la gita a Roma se non fosse che alcune mamme si sono ribellate indovina il motivo per paura di un attacco dell'isis bravo ora ehm con tutto il bene che ti voglio eh ma veramente cioè io se fossi stati gli alunni li avrei mandato a fanculo ma molto male anche se cazzo di gosso ma senti io sto con il mio picconazzo vai spara troia spara eh si vabbè però se ho baggato pur pezzo di merda sto morendo sono merda 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 cico 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 tolchi pimentari apposto bugia ma tolto per vedere come fai vedere eh la guida lo vuoi vedere ehm no è che sono tutti pimenti ah ok come sinceramente non lo so che cazzo 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 ho aggiunto al mio efficiency 4 non ti cambia niente efficiency 4 efficient 4 efficient 4 no non si possono mischiare per tutti i resti te l'ho detto te lo devi visto no non si possono mischiare per tutto il resto c'è mastercard master cazzo master cazzo master pen hey wake up hey tramona ah tu vuoi riusci teo che era franco ah eh è crashato di nuovo è crashato di nuovo è crashato di nuovo è crashato di nuovo mi sa che sono crashato io no sei mutato sei mutato eh ma sono mutato ora ti risento malissimo ma ti risento beh in quella stamberga che tu chiami camera e la camera è mia che porta sfortuna si infatti molto anche che cazzo è quella cosa cosa è quella cosa lunga e pelosa seriamente che cazzo è quella cosa cosa sarebbe tra l'altro che cosa sarebbe dai dino oh tu che cosa è quella cosa aspetta e dai e dai d e dai d e dai d e dai d e dai ticco 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 1 tu fammi finire fermo togliti grazie ehm devo uccidere i poli perchè non ho cibo ah effettivamente ce l'abbiamo sotto la polo cazzo eh vabbè giustamente un copo cotto che polo l'unico polo che non è cotto che può avvelenarci un per cento che avvelenico becco io ma è logico non me lo stai a dire perchè sono coglione perchè sono coglione nel cuore delle maldi detroit si trova più grande banco dei piani della città ci faranno causa fino alla scena qua e qui che i clienti trovano denari in fretta e a volte perdono la testa non sai mai che cosa accade manco con un concorso si è fatto vediamo no, con il p che si si va a fare un ripeto come si fa vabbè ho fatto il no è la sua cosa con me no 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 vabbè mi parlare più e dai nel cuore dell'ottomail ahah capisco no no capisco quando cerchi su youtube queste cose nel cuore dell'ottomail di detroit si trova il più grande banco di piani non no no aspetta inizio questa era la parodia non c'è non era così ah infatti un attimo è una cosa si è un attimo è una cosa 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 complicità si trova il più grande banco di piani della città e qui che clienti trova denari in fretta d'accordo io a volte per una testa chiamano la polizia non crederete ah ecco non crederete vostri occhi mio figlio poteva morire il banco delle pugnette capita le disfunzione reticata remover è un esempio molto pratico no ammettilo dai remove remove ammettilo dai non nascondere no aspetta questo concentrato si 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 ah come si fa lo far raga sta concentrato a fare che cosa eh eh perchè ha fatto 19 ceste eh mi servono per per fare la camera delle ceste ok che schifo sta concentrato che schifo che schifo dai schifo dai dai dillo dillo per la distruzione rettile ha colpito anche a te dai dai non si solute però facciamo un raduno siiii facciamo un raduno di il primo raduno che faremo minchia come si sente il microfono che sbuffa u ah giusto a quel cazzo di microfono che hai oh lo sai che hai migliorato tantissimo ma non so come sono dopo che hai fatto quella cosa hai migliorato ma no oddio non ci credo amo no non ci credi cazzo guarda di vedere il video va ah beh fino a quando lo carichi tu eh senti cosa di perchè non carico video perchè non ce ne sono di chi è la colpa che non vuole registrare si è stato di guardalo guarda popofiero popofiero bobovieri ah adesso non scemo io ci credo che non funziona eh lo sappiamo che si scemo dai e dai e dai mamma Daniel mi picchia ma devo venire un grigio ma ma Daniel mi picchia no tu dovresti chiedi ma che stai facendo questa cosa con i cartelli non lo so ok vieni che funziona vieni che funziona vieni che funziona cosa dovrebbe essere seriamente tua sorella una farm D alberi no spingimi attivi attivi attiva attiva ok che figa ah e cosa dovrebbe essere ma fanno di stone c'è un generatore di stone eh se si come sfruttando un bug no eh la stone non può essere generata dal cazzo ok ci mettiamo una scommessa vai 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 toglie usa un bug guardalo guardalo che usa un bug guardala che schifo anzi non sbaglio e si mette a pieto ma porco ma so sto mondo piove soltanto io non lo so go pens spero 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 parliamo si spero che diretti riempie lo no 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 capito no capito soltanto un buon conto da un altro colpo per favore al microfono che sta iniziando a fare quel difetto o chi parla oggi sono pollo migliora quando dai colpi ok la prossima volta io devo più forte io devo uccidere questo asino, mi sto letteralmente rompendo la coglia no no lascelo 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 basta perchè? di chi era? mio non l'hai vista la sella non lo dico io la sella dove te l'hai trovata in culo nel dungeon dove sta? ah non ti ho detto che ho dovuto portare del land si forse vedi vai giù nel perchè? un'emozione che cresce piano piano singimi forte tu ne devi toccare i cartelli gulachite gulachite stra vivo na 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 sempre più in atto si vai vola vola non c'è e nina di nana vai per far confusione sono dentro regalo saperemo che ciò ci traccia ben corpo apposta su foto come si 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 rimuole però Dai Stiamo registrando Da un tre quarti d'ora E un attimo Sto per finire Devo ricordare come si finisce Vabbè Lo vediamo nel Prostimo episodio Da Danse L'ho finita Mi divide solamente Cinque Così di Di ossidiana Cinque pezzi di ossidiana Te l'acceno qua Trovo Non è cinque Uno sta là Appiazzato completamente A cazzo Canefficienza è molto semplice A rompere i blocchi di ossidiana È normale È uno Ci lo mettiamo Da il culo No Sto doveva stare là sotto Dai un colpo Colpo Ah Sai che devi fare Remove Remove Oh Sai che devi fare per sistemarlo Non ti metterò a ridere Vai nel Nell'armaria di tua madre O di tua sorella No Prendi un reggisieno che non gli serve Perché? Eh aspetta Prendi un reggisieno che non ci serve E ricostruisce attorno Praticamente Il filtro antipop Che stava prima E con che? Il tessuto Tu se vedi il tessuto del reggisieno È uguale a quello che è Ok Però evita di farti vedere Perché sennò ti Tipo ti uccidono Quindi No Tipo mi dicono Ma che cazzo Perché prendi i miei reggisieno No Infatti Vedi due osidiane Sarebbe forse E le altre Ah ok c'è Siamo qua Cicc Quest'anno Perché? No questa questa cosa C'è una cosa Divine È verissima Per fare Il filtro antipop Gli usano anche Per fare Quei filtro antipop A bluestar Ecc Ah Bluestar Sì A bluestar A bluestar 12 Ci siamo tastrati Vai C'è Che cosa? Niente Vai Vai Attivo Aspetta Che cosa attivo Se non C'è Grazie Se lo disattivi Fa un piacere Alla Sto qua Togli Sì 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 No essere un cretino Di rimetti Non lo agire più Di rimetti là Dai no Quest'episodio sta durando troppo Se no cliccando su youtube Sono 50 minuti Tipo E' lo specialo 2.000 iscritti E' lo specialo 2.000 iscritti Niente no Perché Stai facendo sta cosa Sinceramente Di vetro Ma è estetica sta cosa del vetro No E' funzionale E vedi che bug Minchia sfrutta un bug Che schifo Guarda il pasto Che schifo Io l'ha detto che sfrutta un bug Colpa Volo Aspetta Un secondo Apposta Lo devo cercare Quel cosino Perché tipo da picco Ci giocavo Con qualcosa Tu dici Sì Io giocavo Con Ci muoviamo Cazzo One second Stai fermo Stiamo Tanta Tanta Minuti Scusa Fai i tagli Per una volta Ti metti a fare i tagli Sì Sì Aspetta Facciamo un po' C'è Lui è uno svogliato Di quelli mai visti Esatto Sbagliato Ci dovremmo muovere In teoria E' un secondo Ma lo fai veramente cacare No non ce la fa E se il bug non bug No mi ce la ne ho un bug Togliti di mezzo Sì Grazie Ti vuoi togli Vedo le tue cuffie Vedete le mie cuffie Sì vabbè Della skin Della skin Vedi le mie cuffie Sono molto Gaie non vedo l'ora di avere il samson meteo white interessantissimo molto interessante è perchè ovviamente sono un test di merda no sono un coglione rompi qua il vetro, quello di fuori quello che sto rompendo lì anche se lo perdiamo fortissimi bettato quello lo rompiamo allora un modo dovrebbe funzionare no acqua mi serve dell'acqua tic maio guarda attentamente la mincetta che sta facendo è caduto dentro c'è la telecrona cattolta attenzione sta andando mamma mia ancora sul vetro fa l'acqua infinita addirittura ho il flusso d'acqua incredibile mamma mia ho fatto una mincetta doppia devo chiudere l'episodio chiudilo lo finiamo la prossima volta cioè aspetta che non lo so fail 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 che si è girato la storia dove dove la vedi la stone su antico lo sai che questo è un baghissimo perchè dovrebbe generare la cobblestone però per coperti un bug genera la stone vedi ve la spinge, ve la spinge hai visto che era grazie un bug che la facevi? io te lo vedo non è un bug è un baghissimo questo perchè dovrebbe farla cobblestone ecco ora dovrei piazzare per una determinata diciamo circostanza di codici stai zitto stai zitto rosico ma no togliti questa cosa qui ha contatto diciamo questo evento in minecraft dovrebbe fare la cobblestone ma per determinate circostanze no, allora no, allora incontrati da quando si incontra una stone e cobblestone no? se riesco a piazzare ok quando si incontrano stone e cobblestone cioè provenienti dallo stesso punto mettiamo una cosina non so ma con lui come spiega no, vabbè provenienti da due punti opposti no? si genera la cobblestone mentre se la lava cade sopra la cosa l'hai capito l'hai capito sicuro c'è sì però questo in minecraft non dovrebbe avvenire perchè è un bug quindi è un bug l'importante che avviene lo fa un bug che schifo che schifo da te no se no video è tutto vi ringrazio la visione del video vi piace ti ricordo di mettere mi piace condividere iscrivervi passare da www.prendiporno.remu.com aspetta l'abbiamo finita l'abbiamo finita dammi un pezzo di cobblestone non l'abbiamo finita no no prendila dal coso no 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 1 stai la dove? ora bella levetta a bestia lo sbaglio quanto vaffan l'hai droppato? ma quante possibilità quante possibilità ci sono di sbagliare a farla leva tante per te tante ah oh è vero ma vi dimentico sto partito minchia stava andando nella lava ecco come ci ho dato io eh si ecco bella la minchia lo fa to posto oh 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 ci muoviamo eh il sito sito di dir ah io l'attivo vai che cosa l'attivi senza l'acqua lo vuoi attivare? no no vabbè vai a prendere l'acqua renditi utile vieni di prendi l'acqua dammi ma se non puoi prenderla oh cazzo no devo mettere i vetri perchè hai messo il ferro tieni dove la metto ma aspetta rompi sti blocchi di storia tieni vabbè io te li butto oh no nella lava la lava no nella lava testa di merda eh 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 no ora vediamo che cosa fare i move vai siamo qua oh oh stava male so sai ma tu mi vuoi bene no veramente non mi vuoi scopare no comunque lui noi in sabato non penso caricheremo perchè si ameremo ad una partita molto importante Sameremo 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 più che importante ci vuole una preparazione psicomentale per questa partita no 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 mi censuro da solo va pensiero ma secondo te se io vado a Sanremo che mi dicono ritirati questi vanno a riempire di lava questi si dove la vado a farla lava da dal cuore sulla lontana si fino a là devo andare in culo devo venire mmm non si non si lascia eh c'è molta gente eh che eh si sta fiammeggiando remove c'è un bug remove ehm remove ehm a parte che devi dare un colpo al microfono questo è ovvio no sono morta la lava nooo vai ancora di chi più invenza meno male meno male ma porca puttana mob di mea funziona si e allora non ci serve la lava scherzi mi serviva un altro ah tieni sarebbe figo fare la lava infinita guarda però sarebbe un po' sgravo per le mod dam 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 ti sono ciao usci detto me ne si viva un altro c'è un piccolo senco forte vabbè vabbè si nel frattempo che vado a prendere la trasse qui di là fatto attiva la leva e vedi dove sta la leva la la nel frattempo si è scaricato il computer non ha un caricatore perciò ciao a tutti che figo che bella merda beh puoi chiudere adesso ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti anche se ci sarebbe un modo ma te lo spiego nel prossimo episodio ciao